I bambini come veri protagonisti dell'apprendimento. È questo lo stile educativo della San Claudio Childeren, scuola dell'infanzia a Campiglione di Fermo, che si rifà all'approccio delle scuole di Reggio Emilia, nelle quale attraverso la cultura degli atelier come occasione di scambio, di incontro, di dialoghi e di punti di vista diversi, i piccoli alunni continuano a stupirsi e a porsi domande. Abbiamo cominciato a lavorare dal punto di vista della scelta educativa e dopo di cui abbiamo cominciato a trovare i spazi idoni, le persone che hanno voluto in qualche modo investire il loro tempo, il loro entusiasmo per poterlo realizzare e ormai sono quasi tre anni che questa scuola si può definire veramente come una delle scuole Reggio Childeren. La scelta accurata dei materiali permette di creare setting di allestimenti suggestivi e stimolanti in cui si sperimenta e si crea in autonomia ed in presenza dell'insegnante, che coglie la curiosità dei bimbi e fa ricerca continua per offrire nuove conoscenze, ponendo sempre in primo piano l'aspetto inclusivo che dà ampie possibilità a tutti gli alunni con e senza disabilità. I bambini possono fare ricerca autonomamente, possono sperimentare in autonomia. Naturalmente in ogni atelier è sempre presente la figura dell'adulto perché comunque l'adulto è lì per sorvegliare ma soprattutto per lanciare qualche stimolo, ma non per trovare mai la soluzione, soluzione che viene trovata da loro in autonomia attraverso i materiali e lo scambio soprattutto tra i pari. Il digitale è strettamente connesso a tutti gli atelier come anche la presenza di libri in ogni spazio di apprendimento che fanno spesso da sfondo integratore. Noi ci siamo messi in gioco fin da subito, abbiamo partecipato a diversi corsi di formazione direttamente a Reggio Emilia e questo continuiamo a farlo ogni anno. Quest'anno per esempio sono partite già a novembre tre colleghe e adesso noi partiremo per iniziare una formazione di continuità con le insegnanti della scuola primaria. Abbiamo cercato anche di creare relazione nel territorio con le insegnanti del Nido ed è partita grazie al supporto dell'ambito territoriale del Comune di Fermo una formazione condivisa con il Nido Comunale Santoro e ogni mese ci ritroviamo noi insegnanti della scuola dell'infanzia San Claudio, l'ubblicatrice del Nido Comunale per fare un percorso condiviso su quelli che sono gli allestimenti che mettiamo in essere qui nella nostra scuola piuttosto che il pensiero pedagogico che c'è dietro a ogni atelier che viene allestito e quindi questa formazione ci permetterà dopo di mettere in campo un percorso di continuità più strutturato, più consapevole. Grazie.